La Bibbia è la parola di Dio, scritta con autorità per comunicare la verità a tutta l'umanità. Nella parola di Dio noi troviamo la legge, noi troviamo anche i libri storici, c'è anche il genere letterario chiamato poetico, noi abbiamo anche nella parola di Dio i libri profetici, abbiamo altrettanto nella parola di Dio le epistole scritte dagli apostoli come nel Nuovo Testamento, noi abbiamo anche nella parola di Dio i libri biografici, libri che parlano della vita, della vita più importante per noi che è la vita del nostro Signore Gesù. Nella parola di Dio ci sono quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Questi sono i quattro Vangeli, dei quali i primi tre sono chiamati anche libri o Vangeli sinotici. Sinotici perché sono simili, gli uni agli altri, hanno molte cose in comune. Quindi noi abbiamo Matteo, Marco e Luca. Ma questa mattina noi vogliamo fare un viaggio particolare, vogliamo entrare all'interno del Vangelo di Marco e allora andiamo a scoprire questo Vangelo. Introduzione al Vangelo di Marco Marco è il Vangelo più corto tra i quattro Vangeli. Il Vangelo di Marco fu scritto da Gianmarco all'inizio della metà degli anni Sessanta dopo Cristo. Gianmarco era cugino di Barnaba e altrettanto lui aiutò l'Apostolo Paolo in molti dei suoi viaggi. È anche vero che nel suo primo viaggio insieme all'Apostolo Paolo e Barnaba, proprio all'inizio del viaggio aveva abbandonato l'Apostolo Paolo. Paolo si era pure arrabbiato per questo motivo, ma in seguito, leggendo il Nuovo Testamento, lui si è ritrattato con l'Apostolo Paolo ed è diventato una persona estremamente utile per il ministero. All'interno della storia della Chiesa, il primo padre della Chiesa, Papias, affermò che Marco ricevete gran parte delle sue informazioni per scrivere il suo Vangelo dall'Apostolo Pietro. Infatti il Vangelo di Marco molto spesso è chiamato il Vangelo di Pietro, perché Pietro si riferiva a Marco come suo figlio nella fede. Marco ha scritto il suo Vangelo pensando ai cristiani che soffrivano per il Vangelo a Roma. Sotto l'imperatore Nerone, la cui diffusa persecuzione contro i cristiani iniziò nell'anno 64 d.C. Ma qual è il messaggio di Marco? Marco ci ricorda di comunicare un messaggio di speranza, ma comunicare un messaggio in modo che fosse compreso da tutti coloro che ne hanno bisogno. Lui parla in una maniera che sia dinamica. Lui parla in una maniera che sia chiara. Lui parla in una maniera che possa colpire i cuori delle persone, descrivendo la storia del Messia e di tutto quello che ha fatto. Dunque, lo scopo del libro di Marco? Noi possiamo comprendere che Marco ha scritto per almeno due motivi. Numero uno, perché i suoi lettori potessero avere e fare la giusta confessione che Gesù è il figlio di Dio. E numero due, per dare la giusta risposta a Cristo, impegno a seguire. A proposito di seguire, questo è uno dei termini o delle parole più importanti all'interno di questo Vangelo. Marco dice e usa il verbo seguire per almeno 17 volte nel Vangelo di Marco. E che vuol dire che è una richiesta a tutte le persone che si sono incontrate con Cristo all'interno della biografia di Gesù, all'interno della narrativa di questo Vangelo, queste persone che hanno incontrato Gesù sono state sfidate a seguire, a rispondere positivamente alla chiamata di Cristo. Dunque la giusta confessione nel Vangelo di Marco è che amare Gesù come il figlio di Dio. Ed è interessante vedere e trovare questo titolo di Cristo che si trova all'inizio ma si trova anche alla conclusione del Vangelo di Marco. Infatti quando noi leggiamo il Vangelo di Marco nel versetto 1 leggiamo l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio. Ma anche alla fine quelle persone che molto spesso non avrebbero mai dichiarato che Gesù fosse il figlio di Dio, in questo caso i Romani, è stato un centurione. In Marco capitolo 15 versetto 39 è che ha detto e il centurione che era lì presente di fronte a Gesù nel momento della sua crocifissione avendolo visto ispirare in quel modo disse veramente quest'uomo era figlio di Dio. Ma come possiamo dividere il Vangelo di Marco? Lo schema del Vangelo di Marco può essere diviso proprio come se fosse un viaggio. Tre sceni o tre periodi diversi. Nella prima parte noi troviamo il ministero di Gesù Cristo in Galilea. In questa parte dal capitolo 1 al capitolo 8 Gesù sta facendo una domanda chi è il Messia? Il Vangelo di Marco vuole appunto fare questa domanda e noi vedremo in ogni parte di questi capitoli chi è il Messia e Gesù al nord nel suo ministero in Galilea. Ma dopo quando noi andiamo nella terza parte, il ministero di Gesù quando già si trova a Gerusalemme, noi abbiamo un'altra domanda. Come è che Gesù Cristo, che è il figlio di Dio, è diventato il re messianico? Dunque per rispondere a queste due domande noi dobbiamo andare al cuore del Vangelo di Marco. Mentre lui sta nel suo viaggio partendo dalla Galilea verso Gerusalemme, dal capitolo 8 al capitolo 10, qui Gesù risponde a entrambe le domande. E allora ti faccio una domanda e un invito. Sei pronto per questo viaggio attraverso il Vangelo di Marco? Andiamo insieme a scoprire la parola del Signore. Cari fratelli, questa mattina tu che cosa vuoi? Ci sono buone notizie o cattive notizie? A proposito di cattive notizie, in questo ultimo periodo, ultime settimane, abbiamo ascoltato un sacco di brutte notizie che vengono dalla Cina. Voi sapete molto bene a cosa mi riferisco. Però c'è una grandissima notizia che viene dalla Cina. Infatti voglio leggere questo racconto di Brother Yun. Lui dice che in Cina i più grandi miracoli che vediamo non sono le guarigioni o altre cose, ma le vite trasformate dal Vangelo. Amen! Questa è una grandissima notizia. Crediamo di non essere chiamati a seguire segni e prodigi, ma invece che i segni e le meraviglie ci seguano quando viene predicato il Vangelo. Non teniamo gli occhi puntati sui segni e prodigi, teniamo gli occhi puntati su Gesù. Amen! Noi teniamo i nostri occhi puntati su Cristo, perché è da Cristo che viene il messaggio per la nostra vita. Ci sono brutte, ma questa è la più grande notizia per la nostra vita. E quando noi ascoltiamo questa buona notizia che viene dalla parte di Cristo Gesù, noi dobbiamo, una volta che senti, deve decidere. Noi non possiamo, quando noi ascoltiamo il messaggio di Gesù, dire è ora ci penso, è una buona proposta. No! Il messaggio di Cristo è per le persone che vogliono accogliere il suo messaggio. E Gesù quando parla, comunica, vuole che noi possiamo prendere, ricevere il suo messaggio. Questa mattina, incominciando nel Vangelo di Marco, Gesù Cristo è la buona notizia per la tua vita. Amen! È la buona notizia! È la buona notizia per te che ci segue da casa, è la buona notizia da parte di Dio per te che ci segue qui. E noi vogliamo questa mattina vedere almeno tre parole che svelano questa buona notizia per la nostra vita. Andiamo al Vangelo di Marco, capitolo 1, versetto 1. Se il microfono sta dando molto fastidio, dammi il gelato per favore, così magari lo spengo questo, perché vedo che i fratelli... Dove sta? L'altro, grazie Massimo. Allora Marco, capitolo 1, versetto 1. Marco 1, versetto 1. Noi vogliamo leggere la parola del Signore, soltanto un versetto per noi questa mattina che ci dà questo messaggio forte per il nostro cuore. Vogliamo leggerlo tutti insieme? Abbiamo anche qua nello schermo, dice la parola del Signore, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Vogliamo ancora dirlo una volta? Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Allora noi vogliamo vedere almeno, cari fratelli e sorelle, tre parole che svelano il messaggio del Signore per noi. Soltanto da un versetto. E per te che magari non hai mai letto il Vangelo di Marco, ti invito a farlo. Ci sono sedici capitoli. Puoi leggere un pezzettino alla volta, perché anche nelle prossime domeniche noi vogliamo entrare all'interno della parola del Signore, del Vangelo di Marco, perché c'è un messaggio per la tua vita che trasformerà il tuo cuore. Noi vogliamo conoscere Cristo. E l'unico modo di conoscere il Signore, appunto, è attraverso il suo messaggio, attraverso il suo Vangelo. Amen. Allora, la prima parola che svela il piano di Dio per la nostra vita questa mattina è una parola piccola. Vedete che nel versetto 1, Marco 1, 1, qual è la prima parola in italiano? Inizio. Tutto incomincia con l'inizio. E appunto anche il Vangelo di Marco, noi vediamo che il punto di partenza, inizio vuol dire questo, ossia questa cosa, questa azione per avviare, per iniziare. Ossia, lui, Marco, non incomincia. Qui è dove noi dobbiamo paragonare. Matteo, Marco e Luca. Lui incomincia da una maniera diversa. Lui non incomincia come Matteo, per esempio. Matteo che cosa fa? Matteo incomincia con la genealogia di Gesù Cristo. Lui dice in Matteo 1, 1, genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Ossia, Matteo è andato nella genealogia del nostro Signore Gesù Cristo. Luca, invece, quando incomincia il suo Vangelo, dice in Luca 1, 30, l'angelo disse, parlando a Maria, non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Versetto 31, ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai il nome di Gesù. Ma Marco non fa niente di questo. Lui dà un'enfasi alla persona di Gesù. Non parla di quelli che vengono prima, degli ancestrali di Cristo. Non parla dell'incontro dell'angelo con Maria, dando questa buona notizia che attraverso lo Spirito Santo Maria avrebbe concepito un bambino dalla parte di Dio. ma lui dà un messaggio parlando, ossia, già iniziando con il Vangelo. Gesù Cristo che è venuto, che trasmette un messaggio, che trasforma la nostra vita. E appunto, lui, Marco, vuole che noi possiamo conoscere l'amore del Signore in Cristo Gesù. Allora, cari, Marco non sta dando un titolo al Vangelo. Lui non sta dicendo, questo è il titolo del mio Vangelo. No, perché Marco sta, in effetti, ossia, mostrando che il suo interesse è far vedere e conoscere la predicazione del nostro Signore Cristo Gesù. E poi, non solo questo, il Vangelo del Signore riguarda qui, riguarda a un uomo, riguarda a una chiesa, riguarda a un gruppo, neanche questo, riguarda la persona del nostro Signore Gesù Cristo. Marco, per esempio, lui dice, appunto, il Vangelo di Gesù Cristo, e lui non dice, questo è il Vangelo secondo Marco. Poteva dire, no? Ossia, umanamente parlando, ma lo Spirito Santo non gli ha detto di fare questo. Questo è il Vangelo del Signore. Questo è il Vangelo di Cristo Gesù. E appunto, quando noi guardiamo gli Apostoli, loro che cosa predicavano? Che cosa trasmettevano alle persone? In Atti 5, versetto 42, dice, Ogni giorno, nel Tempio e per le case, non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio di Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo, un po' più in là, nella sua prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, versetto 23, lui dice, Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli straniere è pazzia. Io domando a te questa mattina, tu che cosa predichi? Che cosa predichi te? Perché molta gente oggi, invece di parlare di Cristo, parla del nome della Chiesa, parla del nome di un Apostolo, parla del nome di una persona. Tu devi parlare di Cristo Gesù. Neanche Marco, che ha scritto il Vangelo, ha parlato di lui. Lui ha parlato di Cristo. E se lui ha dato un'enfasi su qualcosa all'inizio, ossia l'unica parte in cui, diciamo così, Marco sta facendo un commento, perché tutto il resto, lui non parla mai nella prima persona. Lui parla sempre di Cristo che sta agendo. Il Vangelo di Marco è molto dinamico. E appunto noi questa mattina dobbiamo ricordare, perché le persone conoscono il messaggio di Dio, io e te dobbiamo parlare di Gesù. Parla di quello che Gesù Cristo ha fatto nella tua vita. Non deve parlare, adesso devo parlare con una persona, io che cosa devo fare? Apri la Bibbia e parla di Cristo. Apri il Vangelo di Marco e trasmette l'amore di Dio. Tu non devi convincere le persone con i tuoi argomenti, con vane filosofie. Parla di Cristo. Parla del Vangelo. Perché la parola di Dio contiene tutto quello che è necessario, perché io e te possiamo trasmettere il piano di Dio per la vita delle persone. Incomincia con l'inizio. Incomincia con il Vangelo. Incomincia parlando dell'amore di Dio. Incomincia parlando del peccato che l'essere umano è. Ha nella sua vita e della necessità di conoscere il Signore. Non prendere quello che c'è fuori della parola. Parla del Vangelo di Cristo. Tu sei pronto per fare questo? Amen. Io vedo almeno tre fratelli che hanno detto Amen. Ma io prego che ognuno di voi siate tutti pronti nel nome di Gesù per predicare con coraggio, con audacia, il vero, puro, semplice, profondo, potentissimo Vangelo di Cristo. Perché questa è la volontà del Signore. Marco non ha parlato di nessuno. Lui è andato subito al punto. Dritto parlando dell'inizio del Vangelo del Signore. E a proposito, se la prima parola è inizio, la seconda parola che noi vogliamo guardare questa mattina è il Vangelo. La parola di Dio dice Marco 1.1, avete visto qua? Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. La parola Vangelo o dal greco Evangelion vuol dire buona notizia. Io vi ho chiesto questa mattina che cosa vuoi? Tu vuoi buone o cattive notizie? A volte le persone dicono, ah, dimmi prima le brutte o dimmi prima le belle notizie. Io non so qual è la tua preferenza, ma da parte di Dio ci sono sempre buone notizie. Perché il Vangelo è la buona notizia che viene dalla parola del Signore. E qual è il Vangelo però? Qual è il messaggio, il Vangelo di Gesù Cristo? Allora cari, quando si parla di Vangelo nel Vangelo di Marco, ha a che fare con il ministero di Gesù. E questo è molto importante. Noi dobbiamo guardare e vedere l'azione di Cristo. Perché noi vediamo che Marco nell'usare questa parola, e l'ha usata tantissime volte, Marco sta descrivendo il Vangelo del Signore. Guarda com'è, la prima volta che si appare, che appare la parola Vangelo, nel Marco 1.1 lui dice Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Marco 1.14 noi leggiamo Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Giovanni Battista, Gesù si recuò in Galilea facendo cosa? Predicando cosa? Il Vangelo di Dio e dicendo Marco 8.35 Quindi Marco usa il Vangelo come una parola chiave all'interno di questo Vangelo. Poi noi leggiamo anche in Marco 10.29 Gesù rispose In verità vi dico Che non vi è nessuno che abbia lasciato casa, o fratelli, o sorelle, o madre, o padre, o figli, o campi, per amor mio, o per amor del Vangelo. E ancora Marco 13.10 E prima bisogna che il Vangelo sia predicato fra tutte le genti. Marco 14.9 In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che Costei ha fatto, sarà raccontato in memoria di lei. Allora, durante tutta la vita di Cristo, raccontata all'interno del Vangelo di Marco, c'è la parola Vangelo. Vangelo descrive il ministero di Gesù. La parola Vangelo, che è la buona notizia, descrive non solo il contenuto, ma la persona di Gesù Cristo stesso. Perché? Marco che cosa sta dicendo a noi? Caro fratello e sorella, ospite che sei con noi. Marco sta dicendo almeno due cose. Che Gesù Cristo è l'argomento del Vangelo. È il contenuto. Lui non ha altre cose da comunicare. Io sono venuto per dare la buona notizia. E numero due, Gesù Cristo è l'autore del Vangelo. Marco non sta dicendo, guarda, ho scritto io, eh. Adesso esce la prima edizione del Vangelo. No, 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 lui non è interessato al suo nome. Lui sta comunicando l'argomento e sta comunicando chi è l'autore. Perché da lui, attraverso di lui, attraverso di Cristo, il Vangelo è stato creato. Il Vangelo è stato dato da parte di Dio permesso di Gesù. Gesù è la buona notizia che porta a te. Io so che in molti periodi ci sono sempre brutte notizie. Forse in questo periodo, anche già il 2020, per molte persone è incominciato male. Immagina le persone che sono in Oriente. Immagina le persone malate. Immagina le persone che non hanno un lavoro. Immagina le persone che sono all'ospedale. Immagina quante brutte notizie. Ma Gesù Cristo è comunque la buona notizia per la nostra vita. Gesù Cristo è la buona notizia, la buona novella. per tutti i cuori delle persone che si trovano in buona o in cattiva sorte. Perché senza Cristo non c'è speranza per il nostro cuore. Allora, Agostino De Ipona, lui ha detto una cosa. Per me è da te da riflettere. Lui dice, la comprensione è la ricompensa della fede. Perciò, non cercare di capire per credere. Ma credi che tu possa capire. Molta gente non viene al Vangelo di Cristo perché dice, ah, io devo capire. Io devo intendere. Io devo comprendere. Io devo ragionare. Sono una sorta di Tommaso. Tommaso che vogliono prima, no, attestare, verificare. Con il Vangelo non funziona così. Perché se tu cerchi di comprendere il Vangelo, la persona di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, tu passerai l'intera eternità senza comprendere nulla. Perché non si può mettere Dio in tasca. Dio è il Signore. La sua parola è potente. Perché prende un pecatore e lo trasforma. Chi può fare questo? Se non la potenza di Dio, allora incomincia credendo nella parola del Signore. Perché quando tu credi, dopo lui ti dà la conoscenza, lui ti dà la comprensione, Vieni per fede. Questo è l'inizio del Vangelo. E io spero che ognuno di voi siate pronti per prendere questo messaggio e mettere nel vostro cuore. Perché è il messaggio che trasforma la nostra vita. Forse c'è qualcuno qui che è interessato ma ancora non ha creduto. Forse c'è qualcuno qui che ha tanti dubbi. Credi nel Signore Gesù Cristo. Credi che Lui trasforma la tua vita. Credi che Lui trasforma la vita della tua famiglia. Credi che Lui ti dà una destinazione eterna. Credi perché nel frattempo che non credi in Cristo, tu stai credendo agli uomini, tu stai credendo al governo, tu stai credendo forse anche al tuo medico, ma credi in Gesù. Perché è nel nome di Gesù che noi dobbiamo credere. Perché è così importante credere nel nome di Gesù? Romani 1,16 Un altro apostolo. L'apostolo Paolo dice Infatti, io non mi vergogno del Vangelo. Perché? Perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede del giudeo prima e poi del greco. Tu ti senti vuoto. Ti senti vuoto. Anima vuota. Se tu ti senti vuoto è perché c'è solo una cosa che ti può riempire il cuore. Il Vangelo di Cristo Gesù. Quanta gente vuole avere quello che tu hai e pagherebbero i quattrini. Ma non si può comprare il Vangelo. È un dono di Dio. È l'inizio del Vangelo. Un messaggio che viene da parte di Dio. Gesù Cristo che è disceso su questa terra. Si è incarnato. Ha portato la buona novella. E quando tu prendi questo messaggio che credi nel Signore Gesù Cristo allora la tua vita sarà trasformata nel nome del Signore. E anche per te che ci ascolti da casa che il Vangelo di Cristo possa entrare nel tuo cuore. Allora abbiamo visto fino a qui che c'è l'inizio c'è la parola Vangelo ma poi c'è il nome al di sopra di ogni nome. Il Vangelo di Marco 1.1 dice inizio del Vangelo di Gesù Cristo poi metto Renando, grazie. Che dice Gesù è Gesù Cristo è il suo Vangelo lui è l'inizio lui è il figlio di Dio. Marco quando ha scritto questo Vangelo l'ha scritto in lingua greca. Non ha scritto in lingua ebraica. Ha scritto in lingua greca e questo quando noi vediamo Gesù Cristo sembra nome e cognome. Quanti di voi pensate che Cristo sia il cognome di Gesù? Forse alcune persone pensano, no? Io per esempio mi chiamo Fabiano Nicodemo però qua non è che c'è nome e cognome qua c'è il nome e c'è il titolo del Signore quello che lui è. Però come mette Marco in questo versetto? Sembra piuttosto come se lui stesse a condividere con noi il nome e il cognome del Signore. Noi sappiamo che il nome Gesù Yeshua o Yehoshua viene dal nome Giosuè che vuol dire Dio salva. Il nome di Gesù è meraviglioso perché vuol dire che il Signore Dio salva e salva attraverso il figlio che è Gesù. Però Cristo Cristo che cosa vuol dire Cristo? Io vi ho fatto anche una diapositiva qua. Cristo Christos dal greco e dall'ebraico che quando sentirete magari fai fatica a leggere però quando ascolti riconoscerai sai come si dice Christos in ebraico Mashiach Christos greco Mashiach ebraico che vuol dire l'unto il Messia Gesù Cristo Gesù è il Cristo Gesù è il Messia Gesù è il l'unto di Dio che è disceso su questa terra per portare la buona novela per trasformare la nostra vita e allora Marco sta usando questo termine per dire che l'inizio del Vangelo si trova in colui che è l'unto che è il Signore Gesù allora noi possiamo credere assolutamente in questo messaggio e vedo che a volte le persone fanno fatica a confessare il nome di Gesù magari le persone fanno con molta gioia e spontaneità quando sono allo stadio e se c'è la squadra del tuo cuore come si usa popolarmente dire uno salta e dice il nome della squadra certamente non ci sono paragone o tra una cosa pagana il nome del nostro Signore però caro pensa un attimo con me tu hai confessato il nome di Gesù il Cristo come Signore della tua vita non mi devi dire adesso a voce alta voglio che tu lo dica nel tuo cuore perché questo è l'inizio del Vangelo di Gesù il Cristo e quando tu confessi Gesù come il Signore Cristo della tua vita la tua vita sarà trasformata io voglio sapere se tu non l'hai fatto lo devi fare lo devi fare te lo dico per la terza volta lo devi fare perché altrimenti non c'è salvezza per te non c'è salvezza per me Marco non dà altre opzioni lui è categorico spinto sospinto dallo Spirito Santo questo è l'inizio del Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio Marco 8 29 lui dice a Gesù Cristo chiede ai suoi apostoli gli domandò loro e voi chi dite che io sia e Pietro gli rispose guarda che confessione meravigliosa di Pietro quando arriveremo a capitolo 8 parleremo di più lui dice tu sei il Cristo tu sei il Messia tu sei l'unto di Dio quello che sta dicendo Pietro tu sei il Signore allora questa mattina per concludere Gesù Cristo è la buona notizia da parte di Dio per la tua vita noi abbiamo visto che ci sono almeno tre parole chiave per noi questa mattina quali sono le tre parole chiave? abbiamo visto nel versetto di Marco 1 1 c'è lo schema del messaggio di questa mattina proprio nella parola di Dio vogliamo dire Marco 1 1 guarda nella tua Bibbia inizio del Vangelo di Gesù Cristo figlio di Dio possiamo anche andare a casa? no non possiamo andare a casa che nessuno si asarda a alzarsi perché quando ascolti un messaggio di questo genere io voglio sapere qual è la tua risposta messaggio come Marco corto dritto dritto al cuore dritto alla tua vita perché ci sono c'è una risposta che noi dobbiamo dare pentirsi no e credere queste sono due cose che si accompagnano l'uno con l'altro ravvedersi e credere quale sarà la tua risposta al Signore Gesù questa mattina? tu puoi prendere questo Vangelo puoi prendere questa parola di Dio mettere in macchina lasciare a casa non leggere non meditare ma tu stai perdendo l'opportunità di ravvederti e di credere al Vangelo perché quando noi ci ravvediamo e crediamo noi sappiamo che questa è la risposta appropriata perché Gesù Cristo quando si incontra con le persone noi vedremo nel Vangelo di Marco tu credi in me hai creduto in me mi vuoi seguire credi in me hai lasciato il passato per seguire me tu pensi che il messaggio sia cambiato allora non abbiamo capito niente Gesù Cristo vuole che noi ci possiamo pentire e seguire la sua parola Wisby che è un grande un pastore che è già andato dal Signore ha scritto tantissimi commentari lui ha detto che possiamo essere fedeli nel ricevere e credere il messaggio del Signore mi chiedo questa mattina quante persone sono qui pronte per obbedire la parola del Signore mi chiedo questa mattina quante persone sono pronte che veramente dicono Signore io credo nel tuo messaggio io credo nella tua parola trasforma la mia vita questo questa mattina è soltanto un piccolo antipasto di quello che noi stiamo per scoprire attraverso questo Vangelo se tu vuoi sapere che cosa devo predicare la prossima settimana tu già ce l'hai tutto lo schema per un po' di tempo vai nel Vangelo di Marco e ti faccio ti faccio ti do la garanzia che non ti annoierai perché questa è la parola del Signore vogliamo conoscere Cristo noi sappiamo che i Vangeli danno profili diversi o fotografie da una angolatura diversa dalla stessa persona che è Gesù e noi vogliamo guardare dal punto di vista che Dio ha dato a Marco che il Signore possa benedire la tua vita ma che io e te possiamo seguire il Signore da vicino nel nome di Gesù Signore io prego affinché nel nome di Gesù la tua parola possa entrare nel nostro cuore possa trasformare la nostra vita se qualcuno qui ancora non ha confessato Gesù come il Cristo se qualcuno qui non conosce il Vangelo se qualcuno qui Signore non ha avuto questo inizio di benedizione io ti prego nel nome di Gesù che tu possa toccare i cuori che tu possa trasformare le vite che tu possa dare Signore salvezza perdono trasformazione che possiamo seguire la tua parola Signore perché questa è la tua volontà per la nostra vita nel nome di Gesù Amen il popolo di Dio dice grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.